Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo episodio di Trader Life Simulator Allora, siamo sempre qui nel nostro bel giocotto del negoziotto Nel periodo non collegato ho fatto un po' di novità, eh Che adesso andrò ad... come si dice... a dirvi, però è brutto dirvi Vorrei un termine più bello, ad esporvi, ad esplicarvi, ad esplicarvi, insomma Allora, innanzitutto sono le 7 di mattina, prima che apro il negozio devo andare a fare spesa da Jabber Voi ormai sapete che Jabber è il nostro spesante di fiducia, il nostro fornitore Quindi andiamo da Jabber, a meno finché non saremo ricchi Perché Jabber ogni articolo che ci porta vuole 10 euro E noi non è che stiamo qui a mantenere Jabber, insomma Allora, scendichiamo dalla macchina, scendichiamo dalla macchina, apriamo il portellone posteriore Buongiorno, Jabber! Allora, vediamo un po' Jabber stamattina che ci dà, che ci dà Allora, innanzitutto il latte, il latte che serve sempre, il latte va via come il pane il latte Però è il latte... è strano che il latte vada via come il pane, eppure il latte Poi, Coca-Cola, le ova, le ova, pure le ova vanno via tantissimo Le ova vanno via tantissimo, ok Poi, un'altra cosa, questo che è, lo yogurt 180, e chi c'ha una lira? E chi c'ha una lira per comprare lo yogurt? Allora, 71, 71, l'olio da cucina, l'abbiamo finito, credo L'olio da cucina, ok, portiamo solo questi tre articoli per il momento Chiudiamo la macchina, caro Jabber, io te saluto E me ne torno ad aprire il negozio, anche perché sono già le 8 Come corre il tempo, raga? Il tempo qui corre come una galassia lontana Che si intrapone tra noi e il nostro destino Che ho detto? E che ne so, a me mo' chiedete Allora, giro, giro, tondo, casca il mondo, casca anche il tonno E tutti giù per terra Allora, come sto messo a benzina, cose varie, ma che ne so, raga, ma che ne so Ma io non posso sapere tutto, non posso Hashtag non posso sapere tutto Mi sa che però ho comprato il latte e che ho sbagliato Raga, mi sta per venire in mente una cosa Che ho comprato il latte e mi ho sbagliato perché ho venduto il frigorifero Porca miseriaccia, mi sono fatto una cacchiata abnorme Ho fatto una cacchiata abnorme, raga Porca miseria Sì, perché avevo venduto il frigo, ora vi faccio vedere quello che ho fatto Oh, lo stipendio del lavoratore è stato dedotto Detratto No, dedotto, detratto E per fortuna avevo lasciato 50 euretti in banca E quindi E quindi, e quindi, e quindi Aspettate, raga, non mi si apre il dietro Oh, ok Allora, sì, avevo venduto il frigo Infatti, infatti, vabbè Speriamo non c'è margirà il latte Come vedete, ho venduto il frigo, ho venduto il ripiano In modo che ho messo il ripiano, questo più bello Vedete, raga, ho comprato il ripiano, quello bello, bello, bello Spettacolare La cosa buona, amici, è che ho ripagato il debito Ho ripagato il debito, amici miei Quindi non ho più debito Adesso è tutto guadagno Vabbè, raga, il latte lo metto qua Il frigo, purtroppo, non ce l'ho più Lo ricompraremo E se mi si rovinano i prodotti Li butto via Che devo fa' Purtroppo ormai ho fatto sta cacchiata E lo mettiamo qua Dai, facciamo fitta che quello a lunga conservazione Che non necessita di frigo In realtà necessiterebbe Però noi siamo alternativi E ce ne sbattiamo Non vi dico quale parte Del corpicino robimelloso No, aspetta Questo può andare anche un pochetto più Avanti, secondo me Se potrebbe infilare pure qua No, aspettate, aspettate Aspettate che tocca fare le cose fatte bene Che è sto schifo qua Allora, famo le cose fatte bene Senti come vende quello là Chissà che sta a vende So curiosotto Deve sapere che sta a vende Sono curiosotto Sono curioso fatta a otto Devo fare pure colazione Raga, c'ho 86 C'ho 86 di fame Oh, le ova Le ova le metto qua, raga Le ova devono proprio Sta davanti Eh, le patatine fritte Cerca quello Le patatine fritte Non c'ho niente da fare io Che sta a dare patatine fritte a te Non mi ricordo se in magazzino C'ho qualche cosa Ma adesso vediamo Ma adesso vediamo Ma adesso vedremo, raga Vederemo un attimino Sapete che Remo È un tipetto molto in gambotto Molto in gambotto Dai, le metto proprio davanti al naso Le ova Possibile? Nessuno vuole le ova Di solito Nella realtà Le cose che stanno davanti al naso Sono quelle che si vendono di più Io però Credo che sto gioco Non c'ha differenze Dove metti la roba L'importante è che la tiri fuori Dallo scatolone E te la vende Bene, nel magazzino Non c'è n'ca Non c'è n'ca Olio da cucina Olio da cucina Ragazzi Che l'avevamo terminato Ok Olio da cucina Questo di che sarà Dei semi Dei semi Perché sono due tipi Uno verde E uno Rosso Quello rosso E semi di cosino E quello verde E semi di cosina Ok No, aspettate Ok Ehm Vabbè, dai Questo verde E semi di cosina Questo rosso E semi di cosino O al contrario Ehm No Ok Così Così Tanto raga Sono vuoti Scaffale Non c'ho niente Ok Ok Ma tutto rosso Eh Ma porca puzzola È tutto olio rosso Raga Ma possibile Qua non ce va Ok No Dove l'ho messo Do No Mi scusi Vabbè, dai Lasciamo qua così A posto Dammi qualche soldo Cassiere 109 euro Così posso andare a mangiare Fatemi andare a mangiare Che sto a morire di fame Mangia Ok Ho mangiato Raga Hashtag ho mangiato Mettiamo altri 50 euro In banca In modo che poi L'operaio Trova lo stipendio Se no non trova lo stipendio Mi metti i sindacati E succede un macello Allora 50 euro in banca Deposito 50 euro Otti in banca E sto a posto E sto a postino A postino Raga A postino Comunque Io ho comprato Sti cacchio dei biscotti Alla fragola L'ho pagato Un botto E adesso Non me li vende Cioè Sta cosa è veramente D'un disdicevole Che dire disdicevole Non rende l'idea Del disdicevole I pannolini Dove me li devo mettere i pannolini Non siate volgari Niente raga Non si vende niente qua Si vende niente A banana Ho venduto una banana Meno male Meno male Già Già una banana è qualcosa 60 euretti 60 euretti Tutti Nostri Per fare la spesa Meno male Meno male La farina va poco Lo zucchero è stato venduto Le coca cole Sono finite tutte Raga Le coca cole Sono finite tutte Allora Vediamo Vediamo come funziona Il sistema di consegna Dai Famo sta cacchiata Fa Come parla prima Con Jabber Porca misena Non ho parlato Con Jabber Non ho Non ho attivato la cosa Vabbè Adesso la La attiviamo La attiviamo Andiamo da Jabber Dai Vediamo se questo Compra qualcosa Così compriamo Le coca cole Da Jabber No Vabbè Io vado da Jabber Un attimino Vado con tutto il rimorchio Aperto dietro Lì il coso Come si chiama Lo sportellone dietro Aperto Vado da Jabber Raga Perché bisogna Di Se mi attiva Le consegne Se mi attiva Le consegne Ok Poi volendo C'è anche Il camion Da comprare Ma Raga Purtroppo Qua ci vuole tantissimo Penna avanti Su sto gioco Ma tanto 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 Ragà Taglio le chicane Come in formula 1 Speriamo non me danni i secondi De penalità Ok Taglio la chicane Qua vado dritto Passo sui cordoli 1 7 E 4 All'intertempo Amici Robimello Ok Parliamo con Jabber Va Vediamo Jabber Gli dimote Jabber Dov'è Jabber Dov'è Jabber Non me corre più È stanco Jabber Buongiorno Jabber Senti vorrei Attivare le consegne Ti consegnerò i prodotti Perfetto Perfetto Ti consegnerò i prodotti A me Ok Jabber Ok Intanto Mi prendo un po' De Coca-Cola Jabber Mi prendo un po' De Coca-Cola Finito pure lo zucchero Avete detto Vero Finito pure lo zuccherotto Zuccherotto E comunque De Coca-Cola Io ne voglio Comprar due scatole Perché sono quelle Che si vendono di più Da quello che ho visto Oppure potrei Comprar la pasta Compramo la pasta Vai Compramo la pasta Dai Più cose varie Ci abbiamo E meglio è Ok Vado con Il coso dietro Aperto E tanto Che senso ha Chiuderlo Raga O dovemo riaprire Che senso ha Chiuderlo Oh Abbiamo venduto Un biscotto Alla fragola Miracolo Miracolo Amici Miracole esistono Allora Miracolino Raga Miracolino 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 Abbiamo venduto Il biscottino Alla fragola Miracolotto Un miracolo Fatto a otto Allora Corriamo di qua Che dovrebbe essere di qua Ecco Piano Piano Dovrebbe essere di qua Il cosino Ok Poi bisogna Ricomprare il frigo Appena si può Un attimo Ricomprare il frigo Assolutamente Assolutamente Ricomprare Lufrigo Lufrigo Ok Allora Cominciamo con La pasta Come vanno le vendite Luigi Allora Cominciamo con la pastocchia Le belle pennette Le belle pennette Non posso Non vendere le pennette Hashtag pennette Guardate che belle pennette Le manierei io Ok Pennette su pennette Pennette su pennette No USB Pennette normali Da mangiare Ok 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 Doppia K Allora Poi dammi i soldi Dammi i soldi 68 euro Che quello Se no se vi frega Coca-Cola Ce so da rimettere a posto Le bevande Aranciata Sotto Aranciata Sotto Aranciata Bluff Cioè quando tu l'apri Un blef Non c'è l'aranciata Aranciata Bluff E qua come se non ci fosse Indomani Poi Coca-Cola Questa Soft Aranciata Sempre Bluff Coca-Cola Light Ok Coca-Cola Coca-Cola Normale Aranciata Bluff Ammazza quanto Bluff St'aranciata Coca-Cola Light Ok E Coca-Cola Sta Coca-Cola Mi staccate un dente Coca-Cola Coca-Cola Normale Aspettate raga che io intanto cerco di vedere dove è caduto il dente Zucchero Forza sogno Qualcosa di vero L'avete capita raga Zucchero Allora Ok Oh abbiamo venduto la Coca-Cola Abbiamo venduto la Coca-Cola Perfetto Eeeh Ok O O K O Rik K O Rik K O Rik K Allora Perfetto Adesso Soldi Soldi Adesso Ci dovrebbero dare le consegne a domicilio Vediamo un po' Eccolo qua Jabber consegnerai i tuoi prodotti dietro Ad esempio Io adesso vorrei Le Coca-Cola Le Coca-Cola Eeeh Qual è mo la Coca-Cola Eeeh Wow 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 Dov'è la cola Cola Ecco fatto Cola Eeeh Origine appris Eeeh Più dieci si costi di spedizione Ah non ne posso ordinare più di uno Dieci ogni volta Mi fa piacere sta cosa Ordine Ah devo mettere i soldi nella visa Per farlo Tutto ciò è veramente disdicevole Tutto ciò è disdicevole Dai mettiamo i 100 euro nella visa Sogno Aia Che botta che ho preso sul travertino lì dalla porta Allora da 100 Eeeh Allora dobbiamo mandare 100 euro in banca Poi dalla banca alla visa A posto Così Jabber ce può fregare i soldi Con le consegne 10 euro a pacchetto Raga 10 euro a pacchetto Non è che dici 10 euro a spedizione 10 euro a pacchetto Cioè questo è esagerato Signori sviluppatori Io lo faccio una volta sola Adesso giusto per Giusto per far vedere Però raga Veramente Veramente Allora Scegli un prodotto E' quella che si vende E' quella che si vende più di tutti Però raga Datemi retta Se non cambiano Non fanno un update E cambia Cioè che il prezzo Non varia tramite la spedizione Ma su 10 euro a scatolone Vi conviene andare Voi con la macchina Cioè E' un furto Veramente E' un furto E tra l'altro Anche una cosa Ingiustissima Non vedo Per quale motivo Non si possa pagare Una spedizione unica Che poi nemmeno Poi ti voglio 10 coca cole Cioè Te ne fa usci fuori una E basta Ok Spettate un attimo Che Ok Che grande Che sono stato Spettate Ok A posto Visto come si fa L'ho murata L'ho calciata L'ho calciata Ammi sordi Ammi sordi Ammi sordi Comunque raga Io spero che questo video Vi sia piaciuto Come al solito Commentate 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 Lasciate un bel like Iscrivetevi Vi ricordo che in descrizione C'è l'altra mia piattaforma Dove sono in live Tutte le mattine Alle 11 Tutte le sera Alle 20 e 30 Ringrazio gli amici abbonati Anima vita al cuore del canale Conzettano al canale Di sostenersi Di andare avanti E di portare Tutti questi contenuti Oltre che ad avere Anche dei contenuti esclusivi Ovviamente Detto questo amici Io vi bacio Vi ringrazio E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao